Questa intera città, distrutta da un dio accecato dalla gelosia e dall'invidia nei confronti del proprio figlio. Persino ora, siedono sui loro troni disfatti e credono di poter giudicare il loro vecchio pupazzo. Mentre nel sottosuolo i titani che ho adunato mi attendono, pronti a marciare sull'Olimpo e correggere tutti gli errori del passato. Ma per condurre un esercito possente come quello dei titani, devo prima provare il mio valore. Là dimorano coloro che si definiscono eroi. Si parla anche di qualcuno che si considera un dio, pronto a sfidare chiunque voglia ascoltarlo. Ascoltatemi, mortali. Camminate leggeri sulla terra. Tutti dovranno temere Kratos, il fantasma di Sparta. Ecco un altro demone inviato da questo cosiddetto dio. Può unirsi agli altri. Il mio cono gelato è stato un errore, amico. Un errore che posso correggere se tu lo desideri. Forse non mi hai sentito, amico. C'è un debito da pagare e io sono pronto a sistemare le cose. Su, fatti da parte. Prendilo e pagalo. Il fantasma di Sparta non si piega dinanzi a un mortale. Ancora una volta, chi è stato così folle da mettersi contro di me ha compreso la follia di tali azioni. Il mio destino non è tra i mortali. Devo rovesciare l'Olimpo e tutti quelli che lo occupano. Una volta per tutte. Titani! Il figlio di Zeus è tornato! La nostra ora è vicina. Insieme marceremo sugli dèi! Nessuna creatura inviata dalla Terra, dall'Olimpo o dall'Ade potrà respingere il nostro assolto! E a Zeus e agli stolti che si inginocchiano ai suoi piedi! Ho con me un esercito senza precedenti! Il fantasma di Sparta porterà l'Olimpo alla rovina!